Ritengo che università e mondo dell'impresa debbano inevitabilmente lavorare insieme. Le ragioni per cui questo deve avvenire è perché i processi di apprendimento che oggi vengono richiesti sul mercato del lavoro sono molto complessi. L'università da sola e l'impresa da sola non può sviluppare questi percorsi. Una sinergia, una collaborazione tra mondo dell'università e mondo delle imprese a diversi livelli è assolutamente necessaria per formare le persone che nel futuro dovranno operare nella società, nelle organizzazioni, nelle imprese, nelle pubbliche istituzioni. Dobbiamo capire che ognuno ovviamente deve svolgere il suo compito, ma è importante che si trovino ragioni profonde per lavorare insieme. E questa iniziativa di questi giorni è assolutamente un esempio di come mondo delle imprese, mondo universitario, possono lavorare insieme per uno scopo comune, più alto, collettivo.